Non di solo pane vibra l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. In verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro a giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Gesù, credo nella Tua parola.